Hitler inventò il microfono e le autostrade? No, è solo un'opinione di Kanye West davvero Adolf Hitler inventò il microfono e le autostrade? La teoria non arriva da un utente Facebook a caso, ma è stata esposta da Kanye West dallo studio di Infowars, ospite di Alex Jones. Nel suo panegirico al Führer, Jello ha dipinto come un personaggio storico che, ha fatto anche cose buone, e che avrebbe inventato il microfono e le autostrade. Alex Jones, imbarazzato, ha tentato di contraddirlo ma il messaggio lanciato da Yesi è diffuso in rete nel tipico andamento dei video virali. Tuttavia, oltre all'elogio al padre del nazional socialismo, è necessario fare chiarezza sulla nascita del microfono e delle autostrade. IH. Adolf Knause, Wikimedia Cos'ha detto Kanye West di seguito, la frase incriminata, Jones, tu non sei un nazista. Non meriti di essere chiamato così.